Per me questa fondazione Agrion è stata oggi una piacevolissima sorpresa. Ne conoscevo l'esistenza, ma non conoscevo esattamente le sue funzioni e naturalmente la sua importanza. Quindi ho scoperto delle cose veramente nuove, ho scoperto una tecnologia molto avanzata nel campo agricolo e in questa terra, in questa parte del Piemonte ha un significato, un'importanza particolare. E ho scoperto anche tutto questo lavoro che viene fatto in equipi, in equipi con l'università, in equipi con gli imprenditori agricoli. Quindi proprio avendo a cura non solo la ricerca stratta, ma la ricerca concreta basata sui bisogni degli agricoltori, sulle aspettative anche degli agricoltori, ma non solo, anche dei consumatori. Io sono un consumatore attento di biologico da moltissimi anni e mi fa molto molto piacere vedere che c'è tanta ricerca, tanta attenzione e tanta cura verso questa parte dell'agricoltura che penso sia un po' il futuro per il benessere nostro, per la salute globale, per il benessere del pianeta.